Da domani parte la didattica a distanza per le scuole superiori della nostra regione, una decisione inevitabile che però creerà inevitabilmente anche dei problemi. Sì, purtroppo si è fatto ben poco per preparare la scuola, soprattutto la scuola superiore, per sopperire alle carenze del trasporto scolastico, soprattutto quello extraurbano per gli istituti superiori, per cui siamo arrivati a questa necessità, dover far passare le scuole alla didattica a distanza con grandi problemi. Tutti gli istituti professionali, gli istituti tecnici risentiranno maggiormente, lì il curriculum almeno per un terzo è strutturato sull'attività pratica laboratoriale, quindi con la didattica a distanza lì si potrà fare poco. Al di là di tutte le chiacchiere che si sono fatte, purtroppo la scuola non è stata messa nelle condizioni di far meglio e di più di quanto è accaduto nell'emergenza. C'era il tempo, era necessario, c'era per strutturare meglio tutta l'attività che oggi di nuovo la scuola si trova ad affrontare e di nuovo in una condizione praticamente di emergenza. Ma molte scuole sono pronte a poter ricorrere alla didattica a distanza? Passi davanti si sono fatti, i ragazzi sono stati distribuiti degli strumenti, dei device, però abbiamo sul personale grandi carenze, il personale non ha ricevuto la strumentazione adatta e in parte si è svolta qualche iniziativa di formazione ma sarebbe necessario fare ben altro in questo senso. Tutto questo ovviamente per portare ad un alleggerimento della presenza degli studenti la mattina sui bus, sugli autobus che portano soprattutto gli studenti pendolari nei centri più grandi della nostra regione. Certo, la regione e l'assessorato dei trasporti non hanno fatto assolutamente nulla. Noi siamo esattamente nelle stesse condizioni in cui eravamo sei mesi fa, hanno giocato sul numero della contenibilità degli autobus, per cui l'80% in realtà è calcolato sui numeri a sedere e sui numeri in piedi, per cui negli autobus viaggiano al 100% dei posti a sedere. Quindi abbiamo dei ragazzi che viaggiano magari della stessa classe, che viaggiano anche per un'ora gomito a gomito, poi nella classe sono distanziati di un metro e poi si rifanno nuovamente un'ora di viaggio gomito a gomito. È chiaro insomma che se c'è una possibilità di contagio lì avviene.